Buonasera a tutti. La radio che vi presento questa sera è una fonola del 1952. Si tratta di una radio con due bande in onde medie, una banda in onde corte e una in onde cortissime. In parole povere è stata divisa la banda delle onde medie in due bande per avere una centratura migliore delle stazioni, mentre per quanto riguarda le onde corte riceve due bande, una banda che parte da circa poco più di 50 metri fino a circa 35 metri, un'altra banda che parte da circa 40 metri fino ad arrivare ai 16 metri. Le manopole frontali sono divise in questo modo. La prima manopola il volume e l'accensione, la seconda la sintonia, la terza è il commutatore di gamma. Vediamo ora il problema. La cordina di sintonia slitta. Ecco, ora slitta. Quindi ogni tanto si blocca. Quindi probabilmente non è abbastanza tesa. in questo momento sta girando a vuoto. Vedete che io giro la manopola, ma la lancetta rimane ferma. Quindi non è spezzata la cordina, come pensavo all'inizio, ma soltanto scivola. Quindi dovrò smontare la radio e vedere di cosa si tratta. Ho smontato le manopole. Questo tipo di manopole sono infilate negli alberini posti all'interno del telaio. Quindi basta sfilarle, facendo attenzione di non perdere quel ferretto che si vede chiaramente. Io conservo tutti in un contenitore e adesso procederò ad aprire la radio. Il passo successivo, dopo aver sfilato le manopole, è quello di sfilare il telaio dal mobile. E vediamo un po' come si fa. Di solito ci sono delle viti poste sotto il mobile. Ora vediamo come si smonta il pannello posteriore. È molto semplice, basta spostare queste linguette. Vedete, ce ne sono due in questa radio e il pannello fuoriesce. Ecco, vedete ora le valvole con il bollino della tassa sulla valvola che veniva applicato sulle valvole che si acquistavano. Io vedo qua che ci sono dei condensatori che sono stati sostituiti che non sono originali. Ecco, li vedete meglio. Questi non sono originali, quei due condensatori blu sono stati aggiunti successivamente. La fonola è la 5525, che dovrebbe essere una radio del 1952. Si vede chiaramente dallo schema che c'è in questo disegno che si tratta di valvole della serie U, che erano valvole con i filamenti in serie. Quindi tutte le valvole che hanno la lettera U davanti sono valvole che hanno i filamenti posti in serie. Quindi avranno tensioni differenti dei filamenti. Molto probabilmente. Comunque devo controllare lo schema. Quindi così, guardando subito la radio, sembra che l'unica modifica è quella dei condensatori che non sono originali. Ora si tratterà di controllare la cordina, di verificare perché scivola. Per filare il telaio vedo che c'è una vite di supporto e poi vedremo quali altre viti ci sono oltre a questa. Ho tolto la prima vite, una vite a taglio, perché le vite a stella negli anni 50 non erano ancora state inventate. Furono inventate infatti dalla Philips, credo dopo gli anni 60. Allora, per tirar via il telaio vedo altre viti. Probabilmente questa che sto inquadrando è un'altra vite. e penso che ce ne sia un'altra dall'altra parte. Ho tolto le tre viti e vedete che ora il telaio si può muovere, si può sfilare completamente dal mobile. Procederò quindi a togliere tutto il telaio. L'altoparlante è fissato da sole due viti. Vediamo se è il caso di togliere anche quello, ma penso di sì, per poi togliere via tutto il mobile. Vediamo se è necessario o se per la riparazione del filo della cordina è sufficiente questo tipo di intervento. Ecco, ho smontato completamente il telaio. Vedete che il filo della cordina è di nylon, quindi molto probabilmente un riparatore ha già provveduto a sostituirlo, perché in origine erano fili di canapa. Il problema di questa radio è che questa manopola non riesce a far girare correttamente il filo che slitta, quindi provvederò ora a capire perché è slitta. Inquadriamo meglio il meccanismo, il giro del filo. Vediamo in questa inquadratura il giro del filo. Faccio le inquadrature anche dall'alto. Vedete chiaramente che i condensatori non sono originali. sono condensatori che dovrebbero essere stati montati negli anni 80, così come prima sensazione. Faccio un'altra inquadratura del filo per capire com'è montato. Allora, ho verificato il problema di questa radio. Il problema è senz'altro dovuto al fatto che il filo di nylon si è allentato, quindi girando non fa presa, non facendo presa non riesce a spostare l'indicatore di sintonia. Ho provato anche a lubrificare le pulegge che vedete qui, un altro puleggio si vede qui, ma non c'è niente da fare. Quindi probabilmente bisogna smontare tutta la scala di sintonia per poter riuscire ad accedere alla cordina. Adesso vediamo come fare. Allora, per procedere a togliere la cordina di sintonia bisogna purtroppo smontare il vetro della scala. E per farlo bisogna rimuovere questo gancio. Il gancio, vedete che ha queste linguette che ho raddrizzato, prevano piegate per non farlo uscire. Adesso già si muove. E lo stesso anche dall'altra parte. Dopodiché il vetro si dovrebbe sfilare dall'alto. Vedete le linguette che ho piegato, queste, queste due linguette ho piegato, le ho raddrizzate per sfilare questo pezzo in orizzontale. E poi dall'altra parte dovrò fare lo stesso e sfilare il vetro in verticale. Questo è l'altro gancio che tiene il vetro. Anche queste due lamelle devo raddrizzarle e sfilare il gancio da quella parte. Così il vetro si potrà sfilare dall'alto. Il vetro ora è libero di muoversi, lo posso togliere con molta attenzione e lo tolgo. Ho rimosso il vetro. Adesso devo rimuovere il pannello dello sfondo. Vediamo un po' come fare. Allora ho capovolto l'indicatore di sintonia per togliere questo pannello. Questo pannello che si muove, sembra che è infilato con una fessura laterale e con degli incastri sotto. Un po' complicato per capire come si fa a smontare. Comunque guardando meglio dove ci sono i punti di ancoraggio si dovrebbe riuscire a sfilare verso l'alto. Poi procederò a dare una pulita alle lampadine e a fare in modo che il filo sia più teso oppure lo sostituisco addirittura. Ci sono altre linguette da raddrizzare tipo questa e dall'altra parte in modo per di togliere appunto, vedete, raddrizzando le lamelle poi si sfila il gancetto. Ecco, e lo stesso anche dall'altra parte. Ho tolto completamente lo sfondo che andrà ripulito con uno straccio asciutto o leggermente inumidito. Siccome questo è cartone bisogna usare un po' di prudenza nel pulirlo. Ecco, finalmente, com'è il meccanismo della cordina. Vedete che ci sono le pulegge. C'è una molla. Quindi, se la cordina scivola, bisogna fare in modo di tirare questo filo il più possibile. La molla deve essere in tensione. Qui, in queste immagini, vedete finalmente com'è il giro del filo. Può servire a qualcuno di voi che deve riparare questo modello. Si tratta appunto della fonola 5525, dovrebbe essere del 1952. Le valvole che monta sono UCH4142, UAF42, UL41, UY41. Si tratta di valvole con i filamenti in serie. Perché la serie U, per quello che mi ricordo, sono tutti in serie. Ecco, vedete meglio. Il filo, il giro del filo. Allora, io ho sollevato l'indicatore che ho dovuto sollevare in quel modo per togliere il cartoncino. Adesso lo rimetto com'era. Vedete che ha dei punti di colla. Secondo me non è necessario togliere tutto, ma basterebbe provare a rifare il nodo tirando il filo di nylon. Ci proviamo. Proviamo quindi a aumentare la tensione della molla in modo che qui non slitta più. Oppure si potrebbero aumentare i giri che ci sono intorno a questo alberino. Così fa più presa. Le lampadine vanno ripulite e sono piene di polvere. C'è polvere dappertutto. Una polizia generale bisogna medagliala. E adesso vediamo. Vi mostro come ho trovato il telaio della radio. Vedete che i condensatori non sono originali. Sono stati montati in qualche modo. Tra l'altro si muovono. Poi è stato fatto veramente un lavoraccio. Perché potrebbero andare in corto. Potrebbero dare grossi problemi. Comunque questi connessatori li tolgo. Li posiziono sotto il telaio. Devo pulire tutto. Devo pulire le lampadine. Vedete in che condizioni si trova. Piena di polvere. Anche lo stesso mobile. Ha tantissima polvere e tutto da pulire. Ora vi mostro anche che ho trovato in internet. Lo schema di montaggio della funicella. Così da avere un riferimento. Lo schema originale. Ecco lo schema originale. Di montaggio della funicella. Come si può leggere. La fonola. Modello. 5525. Che è questa. Aveva un tratto in seta. E un tratto in acciaio. Questo è il giro che deve fare. Con la molla. E' lo schema molto chiaro. Non sono indicati i giri. Che deve fare intorno all'alberino. Non disponendo di filo in seta. A volte si usava anche la canapa. Userò un filo di nylon. Ovviamente. Devo sostituire quello che c'è ora. Che si è allungato. Ho trovato anche lo schema elettrico della radio. Della fonola. 5525. Del 1952. Che aveva appunto. Come vi ho detto prima. Le valvole poste in serie. Della serie U. Qua si vede chiaramente. Anche la piedinatura. Qua. Molto chiaramente. La piedinatura delle valvole. Ora giro il foglio. Ve la mostro. Meglio. Ecco. La piedinatura delle valvole. Viste da sotto. Il modo per contare appunto i piedini. E guardare le valvole viste da sotto. Dai terminali. E la numerazione in senso orario. Vedete che. I filamenti. Avevano. I piedini. 1 e 8. A seconda della valvola. La piedinatura può cambiare molto. Sono riportati anche i valori dei condensatori. Che ci sono sullo schema. Con le tolleranze. I condensatori di filtro. Che abbiamo visto prima. Sono stati sostituiti. E qui si vedono molto chiaramente. Che non sono originali. Guardate. Come li hanno montati. Si muovono. Sono anche molto pericolosi. Perché. Le tensioni in gioco. Sono notevoli. I condensatori originali. Erano da. 32. Più 32. Microfarad. C22. Era un condensatore doppio. Quindi hanno messi due. Che sostituiscono. Il condensatore originale. A vitone. Era un 250 volt. Eletrolitico. Naturalmente. Vedremo come procedere. Sarebbe bello montare. Un condensatore a vitone. Al posto di questi condensatori. Per ripristinare. L'estetica originale. Forse ne ho uno. E sotto monterò i condensatori. Moderni. Quindi va modificato. Il collegamento. Però per il momento. Mi limiterò a sostituire. La cordina. Insomma. Di lavoro ce n'è. Vediamo ora. Come è montato il filo. Allora. Questo nodo. Di ancoraggio. Fissa. Un'estremità del filo. Il filo. Il filo poi viene fatto passare. In un foro. Che si vede sopra. Poi arriva. In questo punto. E va a finire la molla. Ho risolto il problema della cordina di sintonia. Come vedete ora la molla è molto più tirata. Il filo è sempre lo stesso. Sono riuscito a sganciare la molla. Farla passare sotto l'alberino. Fargli fare dei giri in più. In modo che fa più presa. E la molla è più tirata. Poi ho tolto la colla. che teneva l'indicatore di sintonia. E vedete ora il risultato. Girando la manopola. Scorre perfettamente. Adesso ho lubrificato con dell'antiossidante. Anche tutti i punti. Come le pulegge. Tutti i punti appunto che hanno. Il movimento. Adesso devo cercare di far assestare la molla. Vedete quanti giri. Ci sono sull'alberino. E adesso fa molta più presa. E non dà più problemi di cevolamento. Adesso devo solamente mettere due punti di colla. Sull'indicatore di sintonia. Per bloccare definitivamente. Devo capire. Dove deve arrivare l'indicatore di sintonia. Rispetto le pulegge. Quindi bisogna centrare appunto. L'indicatore di sintonia. Questo si può ancora spostare. In base alla scala parlante. Quindi metterò. Un pochino di colla di Bostick. Che forse è la colla che c'era anche in origine. Una volta montata la scala parlante. Però vedete che adesso il problema di scivolamento non c'è più. L'umore della corda tesa è normale. Si deve assestare un attimino. Poi vanno pulite le lampadine. E poi si deve procedere appunto con il lavoro. Vedete sotto il telaio. Com'è la radio. Ci sono ancora tutti i componenti originali. Sono stati sostituiti solo i condensatori di filtro. Poi tutto il resto è originale. Adesso ho provveduto a lubrificare il commutatore di banda. Adesso ho provveduto a la scala di Bostick. Adesso ho provveduto a la scala di Bostick.